Sì, diciamo che concordiamo col governo quando parla di diminuzione dell'imposizione fiscale in questo Paese che è altissima. Non concordiamo col governo sul metodo. Mi spiego meglio, noi crediamo che una aliquota unica, poi noi siamo disposti a discutere sulla percentuale e sulla proporzionalità della deduzione, però noi crediamo che una semplificazione con una aliquota unica, minore rispetto alle aliquote che ci sono adesso, possa comportare un aumento di gettito perché siamo estremamente convinti che quando il Ministro dell'Economia parla di lotta all'evasione fiscale non recepisca il fatto che ci sono situazioni dove le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, alcune non pagano le tasse non perché non vogliono pagarle, perché non sono in grado di pagarle. Faccio un esempio su tutti, noi abbiamo chiesto anche attraverso una risoluzione la sospensione degli studi di settore per i periodi di imposta 2015-2016. I motivi sono due principalmente. Il primo è che quel metodo di controllo nasce in un momento in cui la crisi economica non c'era, per cui in un momento di economia sana e dall'altra parte anche se presentava dei criteri sbagliati perché non vi erano criteri territoriali. Oggi siamo in un momento di crisi economica e le aziende si adeguano allo studio di settore solo ed esclusivamente per evitare controlli quando possono farlo, ulteriori controlli quando possono farlo. Ma la verità è che quel fatturato richiesto dagli studi di settore le aziende non ce l'hanno. Guidesi, la interrompo solo su un punto. Lei ha detto che quando l'economia era sana c'erano delle condizioni diverse, adesso è tutto un po' più patologico, quindi il fisco è anche più complicato. Visto che il suo partito è stato al governo molti anni e anche in condizioni di economia sana, se questa flat tax va così bene, ma perché non l'avete fatta prima? Per un semplice motivo, ma lo dico in tutta franchezza, in quel momento non ci avevamo pensato. Sono state sperimentate... Berlusconi aveva proposto però le due aliquote, che più o meno eravamo lì. Non è che non si può fare, è una cosa che è bello dire quando uno ha l'opposizione e così poi non la deve fare. Assolutamente no, ma guardi che io non mi nascondo dietro niente. Quando Berlusconi propose le due aliquote, noi eravamo anche altresì d'accordo, sempre con un metodo di deduzioni proporzionali. Il problema semplicissimo è che non siamo riusciti a farle, come non siamo riusciti a fare altre cose. Purtroppo non siamo riusciti a pragmatizzare i decreti sul federalismo fiscale che oggi avrebbero portato in questo Paese una spending review senza bisogno di cercare altri soldi, perché noi crediamo... Anche su questo, Guidesi, siamo sicuri? Quando si è devoluto potere alla periferia la spesa è aumentata, come tra l'altro ha detto oggi Mariano Bella proprio nel suo convegno. Posso, però su questa cosa ci tengo particolarmente a precisare una cosa. L'attuazione del federalismo fiscale non c'è stata in questo Paese. Questo Paese ha una confusione totale tra tassazione locale e tassazione nazionale. L'attua tassazione locale spesso viene fatta solo perché ci sono dei tagli a cui il governo nazionale proviene. Questo, Guidesi, diciamo che su questa affermazione trova l'assenso di tutti perché è così. Il federalismo fiscale è un guazzabuglio che... No, ma il federalismo fiscale non c'è oggi. No, non c'è quello che è stato fatto con una confusione di competenze totale. Noi crediamo che l'applicazione del federalismo fiscale, cioè che il gettito dei territori venga gestito direttamente dai territori, comporti anche più responsabilità nel governo. Perché se uno spreca i soldi a livello locale sarà costretto a chiedere nuove tasse ai suoi cittadini, lo chiederà lui direttamente, il governatore, il sindaco direttamente. E questo comporterà che i cittadini si arrabbiano e lo mandano a casa e noi avremo finalmente... E questo, no, Guidesi, abbiamo capito il punto... Responsabili e trasparenti.